in auto sulla 2 con mezzo chilogrammo di droga un arresto a cosenza pistole e munizioni nascoste in un contenitore denunciati due vivonesi basta monti sul lavoro si tiene dei sindacati in tutta italia silvio baldini è il nuovo allenatore del crotone ben ritrovati con l'informazione di calabria tv nell'ambito dell'intensificazione del controllo economico del territorio i finanzieri del gruppo di cosenza hanno trattato nel resto una persona che trasportava 500 grammi di cocaina il trasporto su ruote di modiche quantità di droga è spesso privilegiato per consegnare agli spacciatori il loro rifornimento in quest'ottica le forze dell'ordine continuano i loro controlli su strade autostrade in modo da intercettare la merce prima che arrivi nelle piazze di spaccio i militari della guardia di finanza di cosenza hanno intercettato una di queste auto nei pressi dello svincolo autostradale di cosenza sud le fiamme gialle nel normale protocollo di identificazione del mezzo del conducente hanno notato il suo atteggiamento evasivo e sospetto così hanno provveduto ad un'accurata per acquisizione dell'auto trovando nascosto un sacchetto che conteneva mezzo chilo di cocaina che una volta immessa sul mercato avrebbe fruttato almeno 120 mila euro i finanzieri quindi hanno provveduto a sequestrare la droga e l'automezzo mentre il responsabile è stato arrestato e condosto alla casa circondariale di cosenza rinviata al prossimo 29 aprile l'udienza preliminare per le 80 indagati nell'inchiesta atena udienza preliminare nell'aula bunker di la mezza terme riflettori sulla supercosca zingari fora stefano si terrà lunedì 29 aprile nell'aula bunker di catanzaro l'udienza preliminare per gli 80 indagati nell'inchiesta atena la max inchiesta antindrangheta aveva svelato gli interessi della supercosca degli zingari consorziata con quella dei fora stefano su molte imprese prevalentemente agricole e turistiche della sibarite riferite al periodo 2018 2020 l'operazione era scattata all'alba del 30 giugno scorso impiegando centinaia tra carabinieri del nucleo investigativo reparto operativo comando provinciale di cosenza polizia di stato con il personale delle squadre mobili di cosenza catanzaro e del servizio centrale operativo di roma coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di catanzaro diretta dall'allora procuratore nicola gratteri i carabinieri della compagnia di vivo valencia con il supporto dello squadrone riportato cacciatori calabria durante un controllo in materia di armi hanno trovato un revolver calibro 38 di provenienza estera e 24 munizioni non si sono mai fermati i controlli in materia di armi nella provincia di vivo valenza tanto che i carabinieri della compagnia con il supporto dello squadrone riportato cacciatori calabria proprio durante una di queste attività di contrasto nel corso di una perquisizione hanno sequestrato una pistola revolver calibro 38 di provenienza estera e 24 munizioni tutte occultate in un vecchio bidone per la pittura nascosto sotto un tavolo da lavoro da qui il deferimento all'autorità giudiziaria di due uomini uno di 55 l'altro di 66 anni ritenuti presunti responsabili della detenzione illegale di armi e di munizioni durante la stessa operazione di controllo del territorio i carabinieri hanno anche segnalato alle competenti autorità giudiziarie un vivonese di 53 anni sottoposto agli arresti domiciliari ritenuto responsabile di numerose violazioni delle prescrizioni rimposte della misura erogata basta morti sul lavoro anche a catanzaro come del resto in tutta la nazione si tina dei sindacati l'ennesima strage che è avvenuta in toscana ma come dicevate voi anche stesso giorno in calabria c'è stato un altro morto morto sul lavoro per noi è una questione vitale che non riguarda oggi facciamo show per i metalmeccanici e gli edili ma non riguarda solo queste categorie perché proprio se facciamo riferimento alla strage a Firenze ci rendiamo conto che lì c'erano dei lavoratori che probabilmente non avevano assunzione lì ci sono dei lavoratori che probabilmente non avevano neanche il permesso di soggiorno quindi alcune volte serve capire che il mondo del lavoro è messo in discussione complessivamente i diritti dei lavoratori e tutte le istituzioni si devono mettere insieme per contrastare e avviare davvero un'inversione di tendenza rispetto a quello che è la sicurezza nel mondo del lavoro nei giorni scorsi anche in calabria a castrovillari l'ennesimo infortunio mortale sul lavoro noi oggi nei turni di lavoro abbiamo proclamato due ore di sciopero così come previsto è proclamato a livello nazionale proprio per dire basta su queste stragi di lavoro perché ormai il lavoro in italia è un lavoro killer si muore ogni sei ore solo nel mese di febbraio nel nostro paese sono morte circa 40 persone una cosa che non possiamo più accettare e lo stiamo dicendo in tutti i modi alla politica serve una volontà politica per finire queste stragi il codice degli appalti non è andato in questa direzione dal primo luglio del 2023 perché il insediamento del subappalto a cascata ha provocato meno sicurezza nei candieri ha procurato meno formazione procura la non applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro così come previste per le lavorazioni prevalenti e questo non lo possiamo accettare aggiungiamo a questo e abbiamo fatto anche delle proposte serve una patente appunti per quelli invece che rispettano le regole sulla sicurezza serve l'introduzione del reato di omicidio colposo così come è successo per l'omicidio stradale e lo diciamo questo anche perché c'è una come dire una giustizia penale che fa acqua da tutte le parti la maggior parte come dire dei reati di omicidio colposo finiscono in prescrizione questa cosa non va più bene poi c'è una carenza degli organi ispettivi noi siamo da primato negativo in italia al di là delle assunzioni che questo governo ha promesso su queste cose noi vogliamo dire la nostra e su questa cosa noi non ci fermeremo si tiene indetto dalle segreterie regionali di cgl cis le guille per la statale 106 una manifestazione che ha coinvolto tutta la strada ionica calabrese da torre melissa fino a bianco statale 106 se ne ritorna a discutere ma questa volta con presidi in tutta la calabria locri bianco mitocrosi anche torre melissa in provincia di crotone dove la manifestazione è stata indetta dai sindacati per chiedere un'arteria che faccia uscire la laionica dell'isolamento si tratta anche di un mancato finanziamento per la tratta crotonese e le tre sigle sindacali si sono ritrovate martedì mattina sul tratto crotonese a melissa perché la strategicità sta proprio nel portarlo a completamento questo tratto da mirtocrosia quindi da rossano tanto per capirci fino a reggio calabria questo significa intanto bloccare questa carneficina di vite umane che non ha più diciamo sopportabilità significa creare occasione di crescita e di sviluppo per questo territorio che ha tutte le potenzialità per gareggiare a livello nazionale e quindi va completata noi siamo preoccupati siamo preoccupati perché qui le opere i cantieri si aprono non si completano mai che vogliamo che di pari passo la politica deve intervenire per trovare le dovute risorse per completare l'opera noi ad oggi abbiamo 3 miliardi e mezzo ce lo dice anas i tecnici dell'anas anche qui ci sono delle polemiche anas dice che per completare questi due lotti rossano sibari e crotone catanzaro bastano i 3 miliardi e mezzo e quindi sono già suddivisi in otto lotti e già la regione proprio attraverso le procedure commissariale ha avviato tutto quello che è l'iter del via del visto di impatto ambientale prima dell'estate dovrebbero andare già a banto cosa chiedere al governo noi chiediamo al governo di finanziare con i 15 miliardi che mancano tutta la tratta della 106 da rossano verso crotone da catanzaro fino a reggio calabria quindi questi sono i tratti che ancora ad oggi non sono né progettati né finanziate né tantomeno c'è uno studio di fattibilità quindi queste sono le le situazioni che stiamo chiedendo oggi e le chiederemo con forza perché ormai la 106 dopo 50 anni come dicevamo poco fa merita di essere completato soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo di questi territori dell'intera calabria sì tanti anni finalmente però la 106 nel dibattito nazionale c'è l'impegno a fare due tratti importanti che non sono sufficienti noi chiediamo così come si è impegnata la sala la progettazione al finanziamento realizzazione dell'intretto tratto da 106 siamo qui sulla strada in mezzo ai disagi delle comunità quello che chiediamo è che si avvia un piano pluriannale dove tutti i governi annualmente si impegnano a finanziare nella legge di bilancio l'intero tratto della 106 c'è una vertenza calabria c'è una discussione aperta sulla 106 vorremmo che il dibattito non messo non mettesse al margine la discussione proprio su quella strada della morte ponte dello stretto si va bene ma prima bisogna dare sicurezza e dignità ai territori dei comuni calabresi sindaci allora ma che fare troppo sangue su questo a spalle ma intanto apprezzamento a CGL Cisleguil per questa manifestazione bisogna sempre aumentare i fare l'attenzione sulla ss 106 per ridurre il sangue e soprattutto per garantire la sicurezza a chi vuole percorrere questa arteria la protesta degli agricoltori è una protesta giusta che noi condividiamo contro alcune politiche comunitarie che non sono assolutamente condivisibili e quanto afferma l'assessore regionale Gianluca Gallo ascoltiamo nonostante finanziamenti nonostante i uti nonostante tutto i frutti rimangono sugli alberi ecco lei come assessore regionale cosa senti dire al ramo poi beh io accompagnato questa protesta sin dal primo momento credo di essere stato il primo a livello di sistema paese che ha incontrato gli agricoltori sui presidi e anche in cittadella perché li ho ospitati li ho ascoltati e con loro mi sono confrontato su queste tematiche che sono tematiche di stringente attualità e di stringente importanza perché perché il sistema paese è a rischio nel momento in cui noi che siamo invidiati nel mondo perché amiamo mangiare bene amiamo la buona tavola abbiamo prodotti di qualità e soprattutto abbiamo una terra fertile biodiversa non riusciamo più a sostenere questo settore primario l'Europa ha compiuto una scelta noi siamo sì in Europa ma dobbiamo essere anche nella condizione di preservare le nostre unicità le nostre tipicità allora un sostegno intelligente ad un'agricoltura che è stata sì sostenuta ma che negli ultimi anni è andata in difficoltà per una serie di motivazioni legate all'aumento dei costi energetici penso al carburante o penso all'elettricità e che ha avuto ulteriori attacchi dalla grande distribuzione organizzata perché non viene garantito un prezzo minimo al produttore penso che siano elementi sui quali tenere grande attenzione da parte delle regioni da parte del governo centrale più volte abbiamo chiesto al governo centrale tavoli su queste tematiche lo abbiamo chiesto anche all'Europa perché riteniamo che il sostegno agli agricoltori sia necessario in un momento in cui l'Europa rischia di svegliarsi come continente incapace di provvedere a se stessa all'autosostentamento e allora tutto questo naturalmente in Calabria è portato all'esasperazione per una terra che non ha avuto modelli sviluppo che ha nell'agricoltura il principale motore di sviluppo e che puntando ad un'agricoltura di qualità deve per forza di cose fare in modo che ci sia un aumento dell'economia sul territorio valorizzare le nostre produzioni promuovere lo sviluppo a 360 gradi all'interno della nostra regione se ne è parlato durante un convegno con Arsac a Catanzaro non riguarda solo il bergamotto ma riguarda il bergamotto e la fortunella japonica il mandarino cinese che conosciamo tutti. Il modello riguarda appunto la promozione di un prodotto calabrese sulla base di una scientificità di azione particolarmente definita da molti studi che stiamo portando avanti e quello che abbiamo cercato di fare era appunto creare una filiera tra tutti gli stakeholder della produzione sia della materia prima che della prima trasformazione che poi eventualmente della seconda trasformazione quindi il prodotto finito diciamo così l'integratore alimentare e tutta questa filiera è possibile realizzarla in Calabria quindi il modello era quello non solo di promuovere un prodotto evidentemente efficace o quantomeno dimostrandone l'efficacia con gli studi che stiamo cercando di fare ma un modello che coinvolgesse tutti gli stakeholder di una filiera calabrese e quindi promuovere lo sviluppo a 360 gradi all'interno della nostra regione. È un modello che può essere replicato su tante tipologie nel comparto agricolo sempre e perché è importante assumere un ruolo fondamentale questo modello? Perché ci fa capire come possiamo essere, quanto ancora come comparto agricolo possiamo dare e fare valorizzando le nostre produzioni perché come si parla oggi del bergamotto quindi anche degli scarti della lavorazione di un agrume ma di tanti altri allora possiamo replicarlo e quindi cercare di valorizzare ancora di più le nostre filiere e come ARSAC quindi un braccio operativo della regione Calabria e del Dipartimento Agricoltura con le nostre aziende che sono diffuse in tutta la Calabria la nostra banca dati di germoplasma, le nostre varietà custodite dobbiamo essere a disposizione così come lo siamo stati all'inizio con questo progetto insomma io voglio ribadire la totale disponibilità e presenza di ARSAC in queste e in altre simili iniziative perché sono secondo noi il frutto e il futuro di un comparto agricolo che ha necessità di fare più filiera ha necessità di condividere, di stare più insieme e questi sono gli strumenti giusti per farlo. Bene concludiamo con una notizia di sport regionale il club football Crotone ha ufficialmente annunciato il nuovo allenatore Silvio Baldini in seguito all'esonero di mister Lamberto Zauli Da sei partite pochi risultati bisognava dare una scossa per ritrovare la grinta il pareggio interno contro il Taranto è costato la penchina a Lamberto Zauli il tecnico ha salutato il Crotone Calcio e al suo posto come prima scelta Silvio Baldini il tecnico ha navigato nelle categorie di C&B con Enrico Palmares si è presentato alla stampa insieme al direttore generale Raffaele Vrenna il DS Giuseppe Di Bari e il presidente dell'Effici Crotone Gianni Vrenna Io non la vedo come una sconfitta i due cambi di allenatore nei due anni perché l'anno scorso eravamo secondi a lottare per il primo posto e quest'anno ci stiamo comunque sempre giocando un campionato molto più equilibrato e l'anno scorso si voleva alzare l'asticella quest'anno si è voluta di nuovo rialzare l'asticella quindi penso che la scelta di portare un allenatore di esperienza e di curriculum come Baldini sia quella di una società che vuole comunque raggiungere la serie B a tutti i costi Nuove motivazioni per la squadra che dovrà lottare in vista della vittoria e dei playoff sia a Empoli che a Palermo ci sono riuscito quindi spero di riuscirsi anche a Cordone e spero sempre di fare un qualcosa di straordinario perché altrimenti non sarei venuto oppure altrimenti avrei preso un contratto più lungo io sono venuto per fare un qualcosa di straordinario e devo cercare con tutte le mie forze di farlo e quindi mi devo dedicare anima e corpo a questa impresa queste difficoltà ti danno la possibilità di dimostrare anche a me stesso che sono vivo che ci sono ancora, che sono una persona ancora con una certa energia che pur avendo i miei anni però mi sento ancora giovane come spirito dai, perché è scattata questa scintilla fra me e questa famiglia io sono convinto che qua hanno fatto il calcio grandi allenatori del passato che ci siano le possibilità perché che me l'hanno fatto gli altri lo possiamo fare anche ora Mister, prima lei ha detto che si ritiene un uomo del popolo io la butto così, cosa vuole dire? Non solo i cittadini di Cordone ma soprattutto i tifosi Uomo del popolo vuol dire vivere le difficoltà che hanno la gente perché se tu vedi la maggior parte dei tifosi sono persone che hanno nella squadra all'unico momento di gratificazione perché magari hanno disoccupazione o hanno i figli disoccupati oppure hanno dei problemi di salute e quindi tutta questa gente, magari la partita è un momento in cui gli dà un attimo di gioia quando è finita se hai vinto ma prima della partita gli dai un attimo di speranza che poi va a alleviare le loro difficoltà che possono essere di varia natura quindi essere del popolo vuol dire far parte delle difficoltà di questa gente Termina qui il nostro telegiornale, grazie per essere stati con noi